Una buona giornata a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro appuntamento con la stampa, occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno, commentiamo i giornali, commentiamo, diamo spunti ai nostri telespettatori, qualcuno si arrabbia, va bene così, arrabbiamoci pure, ma l'importante è che manteniamo vivo il nostro cervello e non ci addormentiamo, non ci offuschiamo la mente, ok? Quindi il dibattito, allora iniziamo con il santo del giorno, il santo del giorno è San Raimondo, soprannominato non nato, perché non nato? Perché è venuto alla luce e mediante un'operazione medica dopo la morte della madre, nacque nella Catalogna nel 1204, il sole è sorto alle 6.30 e tramonterà alle 19.47, adesso andiamo a vedere il tempo. Allora anche per quanto riguarda il tempo, se andiamo sul sito della protezione civile delle Marche di questa mattina, come vedete dalla grafica ci sono delle precipitazioni previste nel corso del pomeriggio, rovescio temporali sparsi in montagna e isolati lungo la costa, anche localmente di forte intensità, poi questi fenomeni si esauriranno nella serata. L'unica parte, come vedete, probabilmente esclusa da queste precipitazioni, l'unica zona potrebbe essere la costa pesarese, fanese, poi quella anconetana invece probabilmente vedrà un po' di perturbazione, quella sanbenedettese invece oggi dovrebbe essere esente, mentre tutto l'arco appenninico sarà interessato da questi temporali. Poi domani il tempo migliora, così come giovedì. Allora, a proposito di costa sanbenedettese, io mi collego adesso con Nicoletta Pompei. Buongiorno Nicoletta, benvenuta anche questa mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Alla nostra segna stampa. Ho detto a proposito di San Benedetto del Tronto, noi siamo collegati con i bagni Nick 1977, che si trova appunto a San Benedetto del Tronto. Lì il tempo com'è questa mattina? Oggi c'è il sole, si sta bene, è ancora un po' freschetto, ma adesso si scalderà. Ecco, io ho letto adesso, non so se l'hai vista, le provisioni del tempo, qualche possibile piovasco, chissà, ma vedremo. Chi vivrà vedrà, come si dice. Senti, invece, se ci fai, visto che il tempo è tiranno, come si dice soprattutto quando siamo in diretta, ecco, volevo capire. Intanto tu sei la proprietaria di questo stabilimento? Una delle titolari, sì, siamo due. Quindi tu e mia sorella. E tua sorella, quindi tutto in famiglia. Ecco, ci fai vedere il mare? Lo stiamo vedendo, vedo che, insomma, non è una tavola come tutte, spesso le mattine, ma insomma, è un po' mosso. Ma insomma, ci fai vedere lo stabilimento? Così guardiamo, lo facciamo vedere ai nostri telespettatori, che da tutte le marche ci seguono ogni mattina con tanto interesse. Ecco qua, guardate che bel momento, che bello stabilimento, con le palme, le palme sullo sfondo. Ecco, tu sei sulla strada, vicino alla strada principale, io mi ricordo San Benedetto, questo vialone. Sì, diciamo sul lungomare, proprio sul vialone, sì. Ecco, perché tra l'altro è un viale anche molto lungo, cioè la costa lì è abbastanza... Sì, guarda, sono cinque chilometri di lungomare. Sì. E noi diciamo che siamo a metà, ecco, dal centro noi distiamo due chilometri. Quanti ombrelloni, quante persone ospitate? Allora, guarda, di solito normalmente mettiamo intorno ai 120-125, dipende la spianza, poi se si è allungata durante l'inverno. Adesso sotto Covid non più di 90, non nemmeno ci arriviamo, dobbiamo tenere distante Covid, quindi diciamo che c'è stata una riduzione importante per noi. Sì, però come detto ieri, insomma, questa settimana, anche questa settimana siete tutti pieni, insomma c'è vita a San Benedetto. Sì, c'è vita, sì, ancora c'è vita. Bene, allora domani ci parlerai magari di qualche servizio che avete lì nello stabilimento, perché ormai gli stabilimenti sono diventati... C'è tutto negli stabilimenti balneari adesso. C'è tutto, sì, è vero. Grazie allora, grazie Nicoletta, buona giornata e buon lavoro a te. Grazie a voi, buona giornata. E i tuoi ospiti. Allora, cominciamo a vedere i giornali, cominciamo questa mattina, vorrei partire dal resto del carlino nazionale, perché non so se ve l'avevo già anticipato in qualche modo, prevedendo un po' anche quello che succede in Italia e nel mondo, ma in particolare in Italia, in Italia perché questo modo di fare informazione sta esasperando gli animi. Molti sono quelli che non ne possono più, di sentire i soliti virologi annunciare dalla televisione, dal giornale e quant'altro, queste sentenze, queste sciagure che staranno per ritornare, queste chiusure, soprattutto adesso che poi c'è il Green Pass, questo Green Pass che con l'arrivo anche del freddo sta complicando la vita non poco e passi il fatto di dover stare tutti a casa, uno fa un po' il sacrificio, ma quando comincia a dividere i buoni e i cattivi e comincia a etichettarli la cosa si fa un po' più complicata. E qui il problema sarà molto, molto serio da domani in poi. E andiamo a vedere allora il titolo, da domani si viaggia con il Green Pass, quindi c'è questo ulteriore inasprimento delle regole, soprattutto per chi ha deciso di non vaccinarsi ancora. Si dovrà esibire questo certificato verde sugli aerei, sui traghetti, sui treni, ma non tutti i treni, solo quelli a lunga percorrenza, perché in quelli regionali il Green Pass non serve, e sui pullman a lunga percorrenza. Nessun obbligo invece in metropolitana, dove si sta tutti attaccati, appiccicati, non so se voi avete mai avuto l'occasione di andare in metropolitana, io per dieci anni l'ho presa tutti i giorni, quasi, quindi taxi, bus e cittadini, lì non serve. Green Pass lì non serve. Scuola, partenza, caos, l'app per controllare i prof arriverà l'11 di settembre. Mentre a centropagina, ecco quello che vi dicevo prima, l'esasperazione, i toni che vengono usati in televisione, anche dai virologi, anche da queste virostar, perché sono diventate ormai delle star, in particolare Bassetti, che è liberissimo di fare le sue fotografie in spiaggia e di farle pubblicare nelle riviste patinate, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però, tenga conto che non è un cantante o una persona qualsiasi, è un virologo, un medico che, insomma, dice cose che riguardano la salute delle persone. E quello che dice, quindi, lascia il segno. Quindi, dire delle cose, poi farsi vedere in spiaggia con il cocktail a qualsiasi ora del giorno della notte, qualcuno potrebbe indispettire. Poi, ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Follia antivaccini, però è follia antivaccini. Aggrediti in strada giornalisti e medici. Anche noi abbiamo la nostra parte, chiaramente, come io, sto sulle scatole a quelli che il vaccino l'hanno fatto, e sono l'idolo invece di quelli che il vaccino non l'hanno fatto, e io non vorrei essere l'icona di nessuno. Il virologo Bassetti, inseguito fino a casa, lo Stato ci tuteli. Esatto, lo Stato ci tuteli, quindi tutti adesso, anche io, vorrei che lo Stato mi tutelasse, perché chiaramente ci sono quelli che il vaccino l'hanno fatto, che quando mi vedono, insomma, stoccono il naso. Spuntano i furbetti, andiamo nella pagina invece del resto del Carlino, perché spuntano i furbetti dei buoni spese, il Comune di Pesaro scova 85 famiglie che non ne avevano il diritto, dovranno restituire gli aiuti ricevuti. Mentre sulla questione sempre del Covid, Covid e politica, la consigliera Novax dei Cinque Stelle a Pesaro ha deciso di dimettersi. Poi vedremo anche perché, perché lei dice, i grillini, i miei colleghi di partito, hanno cambiato idea. Adesso sono per la vaccinazione obbligatoria. Poi c'è un terremoto in Regione con le dimissioni della dirigente di Furia, che lascia il suo incarico, ma a centropagine il Carlino, questa mattina ha deciso di puntare sulla rinascita di una zona di Pesaro. I pesaresi lo sanno benissimo, insomma, la zona di Via dell'Acquedotto. Ce ne siamo sempre occupati in questi 15 anni di televisione come una zona un po' così, degradata. Spesso era teatro di bivacchi, eccetera, eccetera. Ora, quella zona è stata risistemata dal bocciodromo al pump track divertimento senza età. Questo è il titolo della fotolotizia e dunque c'è questa rinascita appunto per questa zona di Pesaro. Mentre l'azienda Berloni, che produceva mobili, un'azienda che è finita purtroppo non bene, il futuro per i dipendenti è nero, sono senza soldi. Se ne parla a pagina 9 del Carlino di questa mattina. Ancora dalla prima pagina 50 afghani arrivano in provincia, i primi 12 già a Cantiano e poi uno strano incidente e per fortuna nessun è rimasto coinvolto e nessun pericolo anche per il ponte che è stato urtato da questo camion appunto a Pesaro. Danni al cavalca ferrovia, ma come poi l'assessore Berloni ieri si è affrettato a dire, non ci sono problemi di staticità nonostante abbia avuto questo ponte qualche problemino. Il Corriere Adriatico invece di Pesaro questa mattina apre anche qui con il degrado preso a bocce, cioè con la trasformazione di Via dell'Acquedotto, questa area reietta della città che adesso invece vive di un'altra luce e quindi c'è non solo il bocciodromo ma anche teatro e impianti sportivi. Il sindaco Ricci dice vogliamo i giovani e anche le famiglie, sul piatto ci sono 11 milioni da investire nella riqualificazione. Invece da Gabice, il camper che vedete sullo sfondo, il camper io mi vaccino, vaccinarsi all'ora dell'aperitivo, il camper fa tappa appunto nella cittadina a nord della nostra regione. Si è dimessa la Difuria, servizio sanità senza vertice, poi a Cantiano pioggia abbondante, adesso chiudete il Pozzo del Burano, sempre da Pesaro, Sperindè e 5 stelle addio, tra i motivi pure il Green Pass e in fondo i bagnanti vanno al mare, scooter e bici spariscono, ancora mezzi rubati nella zona di Sottomonte, nell'ultimo mese sono state oltre 30 le denunce e poi a Fano scoppia il caos allo sportello, quale sportello? Quello del laboratorio analisi, per una questione di numeri, un po' come quando si va, insomma anche, soprattutto in questi ambienti dove c'è tanta gente, non funzionano banalmente perché manca la carta, i numeri quindi si provvede in un'altra maniera, vedremo insomma cosa è successo tra poco. Intanto andiamo a leggere la pagina 4 del resto del Carlino e leggiamo un articolo che si trova qua in fondo, allora Acquaroli, seconda dose pesante, lui dice sono operativo ma a mezzo servizio, che cosa è successo? Il Presidente della Regione Marche Acquaroli si è sottoposto alla seconda dose di vaccino Pfizer e la seconda dose, come ahimè succede spesso, è stata quella più pesante. Lui dice sono operativo sempre ma oggi, ieri per chi legge, devo ammettere che vado un po' a rilento, la seconda dose di Pfizer mi ha atterrato. Il Presidente Acquaroli si è sottoposto alla seconda dose del vaccino alla giornata di domenica, ieri giornata quasi a pieno ritmo dopo che l'inquinio di Raffaello tra una telefonata e l'altra si era preso qualche ora di relax e sul vaccino, sul secondo appuntamento dice vabbè non l'ho mancato quindi sono andato perché parlava, ha anche riferito che il primo lo aveva preso come appuntamento il 25 giugno, poi aveva avuto degli impegni, insomma alla fine l'ha fatto il 24 di luglio, il primo è andato bene, poi il secondo invece come dice lui mi ha atterrato. Sul vaccino però dice io ho un atteggiamento laico, chiaramente poi sono tutte persone che farebbero a meno, non lo dicono ma poi devono dare l'esempio anche per evitare le polemiche eccetera eccetera, non è un cittadino qualunque e quindi dovendo dare l'esempio si è vaccinato. Tra l'altro vi racconto questa perché è una cosa che se vogliamo è l'effetto perlomeno non negativo, non collaterale del vaccino Pfizer. Un giorno, qualche giorno fa un uomo di 44 anni al bar mi ha fermato dicendo che aveva fatto anche lui il vaccino Pfizer, la prima dose, la seconda invece aveva avuto paura veramente di morire, ha detto io sono rimasto paralizzato nel letto avendo solo due cani con me, non avendo nessuno che poteva aiutarmi, ho preso la rubrica del telefono e ho cercato qualcuno che potesse venire a darmi una mano e ho preso il numero di una vecchia amica. Questa vecchia amica è andata a casa di questo ragazzo di 44 anni, di questo tra poco e quindi ecco questo per dirvi che poi non tutte le, il vaccino può avere anche effetti positivi così come l'ho detto io e non solo negativi. Torniamo sui giornali, sanità, la battaglia in regione si dimette, la dirigente di Furia lascia la guida del servizio salute dopo che si è acuito lo scontro con l'assessore Saltamartini, via anche dal vertice dell'ARS e oggi scadono i termini per le candidature alla sua successione. Proprio ieri al Carlino l'assessore aveva detto qualche dirigente sente il fiato sul collo, raccontano in regione, scrive Roberto Fiaccarini sul Carlino, che le ultime due settimane siano state particolarmente dure in concomitanza con il diffondersi strisciante dell'ipotesi che il posto in giunta di Saltamartini fosse in bilico. Voci che proprio ieri l'assessore ha sventito in un'intervista al Carlino con parole che confermavano ulteriormente l'area che tirava in regione. La Saltamartini aveva detto ieri a Damiani, una mia sostituzione equivalrebbe ad una ammissione di fallimento dell'intera giunta che è retta da cinque partiti. Forse qualche dirigente sente troppo il fiato sul collo e mette in giro certe voci. Ecco quindi il riferimento all'assessore di Furia. Le dimissioni comunque, nonostante il clima degli ultimi mesi, hanno colto di sorpresa la giunta. Peraltro fa notare un esponente della maggioranza. Tutto accade in un momento molto delicato, ma evidentemente voleva lasciare il segno. E sempre tra la pandemia e la polemica, da Pesero, la consigliera Grillina, passa il gruppo misto per divergenze di vedute sul Green Pass. Chi è questa esponente? È Lisetta Sperindei, 73 anni, pensionata, che appunto ha deciso di lasciare i 5 Stelle. Lei dice me ne vado dal movimento perché è un gruppo politico che ha cambiato pelle, è diventato autoritario, è diventato insensibile. Dice una cosa e fa il contrario. Ora appoggia pure l'obbligatorietà del vaccino. È incivile. Insomma, non lo sopporto. Dice così, abbastanza arrabbiata, Lisetta Sperindei, appunto, che dice, non mi aggiunge, non mi dimetto dal Consiglio come mi hanno chiesto, ma vado nel gruppo misto. E sempre su questo argomento. Andiamo invece a Senigallia adesso, dove a Senigallia è comparso un altro cartellone che è stato affisso su un muro della città, appunto, della spiaggia di Velluto, ed è un manifesto bollato come manifesto Novax. Ora, andiamo a vedere questo manifesto. Lo vedete qua giù le mani dai bambini. In qualche modo fa riferimento a chi vorrebbe, a chi insiste a fare i vaccini, anche ai bambini che hanno, ai ragazzi che hanno meno di 12 anni, parliamo di bambini in tenera età, ne è spuntato un altro sulle mura dell'ospedale. Volpini, qui deduco che sia un medico, ma la collega non ha scritto chi sia, quindi se io sono di Milano e vengo oggi per la prima volta e leggo la pagina di Senigallia, mi ritrovo una dichiarazione di una persona che deduco dal camice sia un medico, ma non c'è scritto altro. Comunque, possiamo, dice Volpini, il sindaco si attivi per impedirne l'affissione, mentre Olivetti, che è appunto il sindaco di Senigallia, aggiunge, possiamo fare poco perché i contenuti vietati riguardano solo il fascismo, l'azzardo e l'oscenità. Anche qui si potrebbe commentare, ma per amor di patria andiamo avanti. La depressione da Covid, ecco qui invece un altro argomento importante sul quale già ci siamo soffermati qualche mese fa. La depressione, qui siamo sulla pagina 2 del Carlino di oggi, la depressione da Covid travolge i giovani in fila dallo psicologo per chiedere aiuto. L'allarme di Francesca Scicchitano che dice, c'è chi sfoga la rabbia con la violenza, e lo vediamo tutti i giorni, lo leggiamo tutti i giorni, questi giovani che non vedono l'ora di sfogarsi in qualche modo, basta una stupidaggine, che subito vengono alle mani, che subito sfasciano cose che gli capitano sotto mano, spesso cose di utilità pubblica. Ecco, e c'è anche invece chi ha rinunciato, quindi non violenza, ma rinuncia a vivere chiudendosi praticamente dentro casa. Serve urgentemente una task force di specialisti a disposizione gratuitamente perché molte famiglie non possono pagare le spese. Andare da uno psicologo costa, effettivamente, costa tanto, non tutti se lo possono permettere, e quindi o si fa con il dottor Google, che è il dottore che tutti noi conosciamo, uno va su Google, scrive quello che ha, e poi lì prende quello che gli capita, quello che gli fa bene, e quello che lo fa stare meglio. Ma a volte Google, il dottor Google, che sa tutto, il contrario di tutto, può fare anche i danni. Quindi è sempre meglio andare da uno specialista. E adesso vediamo se questa task force, ma avremo bisogno di task force su tutto, quindi non credo che sarà una cosa che si farà in poco tempo. Attimi di paura, invece, torniamo sul Corriere, la cronaca. Attimi di paura per un bambino di due anni che è stato portato nell'ambulanza al Salesi di Ancona. Non si sa bene che cosa sia successo, nel senso che è stato un incidente, un incidente che ha coinvolto questo bambino di poco più di due anni. È accaduto nella zona di Pesaro intorno alle 11 e si è alzata l'ambulanza che poi lo ha portato all'ospedale pediatrico appunto del Salesi. Mentre a Fano, Massimo Foghetti racconta questa mattina di questo caos che c'è stato ieri mattina allo sportello dell'analisi dell'ospedale Santa Croce, dove siamo a Fano, si era bloccato il distributore dei biglietti, quello che regola le precedenze. Inutilmente, ad uno ad uno, a mano a mano, che gli utenti affluivano nel locale, cercavano di assegnarsi un ordine di priorità per poi accedere allo sportello secondo la chiamata. Considerate che c'è qualcuno che è atteso anche tre ore il proprio turno. Poi si è anche bloccata la porta dei servizi igienici, quindi un'infermiera è riuscita poi a liberare il malcapitato. La politica, sapete che nei primi di ottobre si andrà a votare in alcuni comuni anche della nostra provincia di Peso Urbino. A Fossombrone ormai è noto, c'è Massimo Berloni, l'imprenditore che con la sua lista civica si candida e oggi c'è questa anticipazione sul giornale che riguarda la sua lista. Ci saranno Chiarabilli e Mezzanotti, i primi due nomi dei candidati consiglieri. Nella lista ci sono anche di ex dirigenti comunali e dipendenti dell'Asur, anche Amadori, presidente della federazione calcio Fossombrone, appunto Fossombrone Calcio. L'effetto professionalità rende più evidente la scelta di un cambiamento in quel di Fossombrone. Ma si vota anche il 3-4 di ottobre anche a Mondavio, Mondavio che torna alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale. Il sindaco uscente Mirko Zenobi, lo vedete in questa foto, 37 anni dipendente pubblico, ufficializza la sua ricandidatura. Guiderà la lista che si chiama Per un futuro comune, stesso nome di 5 anni fa, al momento è l'unica lista in campo. La crona che invece cade dalla scala nel giardino, siamo sempre a Mondolfo, e batte la testa, arriva all'elicottero, soccorso un ottantenne trovato a terra dalla moglie, scivola dalla scala mentre svolge alcuni lavori domestici in giardino. L'uomo ha circa 80 anni, un ex operaio residente a Centocroci di Mondolfo. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente, secondo le prime informazioni, raccolte dal collega Jacopo Zuccari, che ha scritto questo articolo per il Corriere Adriatico, non è comunque, dice, in pericolo, scrive in pericolo di vita. La pagina di Fanno invece del Carlino, Turismo, un settembre col vento in poppa. Luciano Cecchini, che è il presidente della cooperativa Alberghi Consoziati, è fiducioso, dice, ci sono 1.500 presenze in questi giorni, tra l'altro, proprio all'inizio di settembre, abbiamo anche un altro evento molto importante, che è il Festival del Brodetto, il Brodetto Fest, che dovrebbe, speriamo, richiamare anche altre persone un po' da tutta Italia. Dobbiamo incentivare certi segmenti, come quello sportivo, dice Cecchini. Poi sul Carnevale Estivo, dedicato ai bambini, la proposta per la prossima stagione, è un Carnevale che, appunto, probabilmente, il prossimo anno sarà dedicato ai più piccoli. Questa potrebbe essere la formula da proporre per la prossima estate, almeno un fine settimana. Andiamo ad Urbino, invece, perché a Urbino c'è domani, cos'è, venerdì mi pare, sì, nei prossimi giorni, poi saremo più precisi, il 3 di settembre, esatto, il 3 di settembre, poi sabato alle 10, la messa solenne, no, allora, sabato alle 10, la messa solenne per l'avvio di questa Chiesa alla presenza del Cardinal Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e poi anche di Ugo Ducci, Presidente della Fondazione Opera del Sacro Cuore di Gesù, di questa opera che, finalmente, dopo 50 anni, sì, probabilmente sì, 50 anni, verrà alla luce. È un'opera voluta da Don Elia Bellebono, che io ho avuto la grazia di conoscere negli ultimi due anni e mezzo di vita, di frequentarlo quasi quotidianamente ogni giorno. È un santo sacerdote che, in un dialogo costante con il Sacro Cuore di Gesù, aveva le apparizioni del Sacro Cuore di Gesù, Gesù stesso gli ha chiesto di costruire questa Chiesa a Castaccolo, siamo praticamente alle porte di Urbino. E finalmente questo santuario, dopo tanti anni, verrà, tra virgolette, inaugurato e quindi si comincerà il 3 di settembre. Si concluderà questo percorso molto lungo, molto lungo davvero. Andiamo a Senigallia. Si ubriaca con i cocktail dell'amico. Perché i cocktail dell'amico? Perché i minorenni, chiaramente non potendo comprare alcolici, chiedono spesso, anzi sempre, aiuto ai maggiorenni, che vanno nei supermercati, comprano queste bottiglie di alcol e poi lo danno a questi ragazzini minorenni che il sabato sera si ubriacano e poi qualcuno, alzando un po' troppo il gomito, finisce pure all'ospedale. Una ragazza è stata denunciata, i genitori di questa minorenne sono stati chiamati e convocati dal commissariato di Senigallia. Un commissariato che chiede anche collaborazione ai genitori, ma i genitori in qualche modo, sì, possono fare, ma molto poco. Si incendia il barbecue, invece danneggia dal terrazzo due auto in sosta sotto l'abitazione. Le macchine sono state colpite dalle piastrelle esplose nel balcone. Rogo forse è partito dalla carbonella e alimentato dal vento. È successo a Marzocca, a lungola statale. Al momento di questo incendio c'era solo un parente dei proprietari di casa. È stato lui a spiegare che il barbecue presente sul terrazzo era spento o almeno così credevano. Sempre da Senigallia il presidente Canafoglia verso le dimissioni, fondazione Città di Senigallia nel caos, a rischio anche l'intero consiglio di amministrazione. Il sindaco Livetti dice è arrivata voce anche a me e quindi adesso verificherò. Andiamo invece sulla pagina di Iesi per chiudere lo sport in lacrime per Tramontana da anni sempre a fianco di Mancini. L'organizzatore di eventi ha perso la sua battaglia contro il male che aveva scoperto pochi mesi fa. I funerali domani mattina alle 10 e mezza nella chiesa di Sant'Antonio Abate nel quartiere di Minonna. Mentre addio a Bianchelli, Dino Bianchelli che è un pilastro del commercio iesino, uno di quei commercianti storici che con il suo lavoro e la sua intraprendenza ha fatto la storia della città di Iesi e anche di un quartiere. I funerali saranno celebrati alle 10.30 di oggi nella chiesa Regina della Pace di Iesi. Chiudiamo qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa, con il commento alla stampa del giorno. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buona giornata e vi ricordo che questa sera alle 20.30 abbiamo l'appuntamento con il telegiornale Occhio alla notizia. Arrivederci.